Sentite le parole del Presidente della Repubblica. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. Tutti ad applaudire, applaudiva il Presidente Renzi, quello del Daspo per i corrotti, applaudiva Fitto, l'uomo nuovo di Forza Italia, già condannato in primo grado per corruzione, applaudiva Verdini, rinviato a giudizio quattro volte di due per corruzione, applaudiva Zoggia del PD, indagato per finanziamento illecito nell'affare Mose, applaudivano piduisti, amici demafiosi, condannati, inquisiti, amici di Buzzi e Carminati. Tutti standing ovation al Presidente della Repubblica che indicava come compito prioritario della politica la lotta alla mafia e alla corruzione. Che cosa abbiamo fatto noi? Forti delle parole del Presidente della Repubblica, questa mattina, oggi, il nostro capogruppo al Senato, Andrea Cioffi, ha portato una proposta in aula. Ha chiesto che venisse calendarizzata immediatamente, quindi un cambio di calendario, un pacchetto anticorruzione che il Movimento 5 Stelle ha costruito anche insieme a degli altri partiti, perché loro le leggi le scrivono, ma poi non le portano in aula. Ecco, abbiamo chiesto la calendarizzazione immediata di un pacchetto anticorruzione per seguire le parole del Presidente della Repubblica. Vedete com'è andata a finire. Chi è favorevole alla proposta di variazione, il Senatore Cioffi inserimento del disegno di legge anticorruzione. Chi è favorevole si apre la votazione. Chiusa la votazione, il Senato non approva. Siamo alle solite, parole e fatti, in questo caso applausi e fatti non coincidono mai. Questa gentaglia purtroppo, gli amici ai medicamorristi, pidduisti, amici di mafia capitale, di Buzzi e Carminati, hanno applaudito in maniera ipocrita, oscena, le parole del Capo dello Stato e avete visto come hanno votato. Ma è sempre così. O apriamo gli occhi tutti quanti, oppure continueremo poi, non lo so, a stupirci che la mafia è arrivata a Roma, che l'Andrangheta gestisce gli appalti in Emilia Romagna, nella rossa Emilia Romagna. La proposta del Movimento 5 Stelle che è stata bocciata oggi, è stata bocciata oggi e è molto semplice. Un pacchetto anticorruzione, perché oggi la corruzione ci costa 70 miliardi di Euro all'anno, delle cifre incredibili, semplice. Ricreare il reato di falso in bilancio, perché è grazie al falso in bilancio, alla depenalizzazione del falso in bilancio, che grandissimi imprenditori, gruppi di potere, riescono a costruire dei fondi neri attraverso i quali corrompere i politici e poi gli garantiscono degli appalti gonfiati, perché tanto paghiamo noi cittadini. La seconda, lo stop alla prescrizione, nel momento in cui una persona viene rinviata a giudizio, deve essere stoppata la prescrizione, perché la prescrizione è un escamotage attraverso il quale si è salvato Andreotti, persino prescritto per mafia. E Berlusconi 5 o 6 volte, forse Berlusconi si potrà salvare grazie alla prescrizione, per questo Renzi sta zitto, anche nel suo processo oggi in atto, un processo di compra, vendita di senatori. E' poi semplice, alzare in maniera enorme le pene per i reati di corruzione e concussione, questo siamo noi, vi chiediamo una mano. Io questo fine settimana sarò in Emilia, a Reggio Emilia e Modena, sabato e domenica, a Bologna anche domenica, perché anche il popolo emiliano si deve un po' alzare la testa, ricordarsi di tutte le battaglie che ha fatto e riflettere sul fatto che oggi crimine organizzato e istituzioni e enti locali sono quasi purtroppo, sono quasi sempre più la stessa identica cosa. Ci vediamo sabato e domenica in Emilia Romagna e cerchiamo di diffondere video del genere, perché attraverso questi video proprio si smascherano le ipocrisia e le oscenità di questo sistema di potere.